Papà ho fame! Anch'io ho fame papà, ma non c'è niente da mangiare. Che dici, ti scugniziello? Non c'è niente. Ma papà vi porterà un bello cosciotto di maiale e così potete fare una bella scolpacciata. Magari fosse vera. E si è in vero bene, o saggio che tu sei un gran faticatore, ma siamo troppo sfortunati. Ma facciamo una cosa, dato che tu non hai trovato lavoro. Sai, non è per me, ma per queste povere creature che avemmo a far crescere con tanta salute. Voglio cercare io un lavoro, magari come domestica. Non dicere sti cose, Carmè. Sono chi che ha già mantenuto la famiglia. E quanti obiettivi che ti esiste, che stasera si ha da mangiare. Ciao, Carmè, c'è per me. Ma che in pressa, in pressa ci vuole rinare. L'unica cosa che io potessi fare è svaliggiare la banca. C'è proprio. Fermi tutti, mani in alto, che stai una rapina. E tu, cassiere, che ci farò tutti i rinari liquidi che tieni in tuo cassetto e non vanno a mossa falsa. E voi, signore cliente, statevene buone e buone. E voi, non toccate la pistola. State ferma. Oh, Dio, che hai già fatto? Tu, fermo. Siamo della polizia. Alza le mani. Sei circondato. Tranquillizzato, brigadier. Non sono delinquente. Certo, non sei un delinquente. Sei un demonio. Hai ucciso una signora e i suoi due bambini. Vieni, carogna. Ti sistemiamo noi. E voi, signore, brigadier. Lassatevi in un po' che ancora qua. Facetemi guardare sti guaglioncini. Castagno in terra accesa con mamma. Non sono costato mai no delinquente. E la prima volta che facessi cose. E con mamma è sicura e tanta gente. Che aveva niente per dar libertà. E sono venuto a capo e fatenare. Ero un giorno, sono faticatore. Ero un giorno, sono faticatore. niente da mangiare e disperato senza pensare niente venite a questa banca a rapinare ma chi poteva immaginare queste cose che io potessi fare questo omicidio ma sono un combattante, un assassino e fa famiglia per dare libertà se io sapo fare queste due creature chissà come si è struire il tuo cuore immagino quant'è questo dolore e se ci penso, se ci penso già mi fa pietà è stato un incidente dello giorno chissà come si è struire il tuo cuore ecco il pechino mi vuol da lavoro chissà come si è struire il tuo cuore e non si è struire il tuo cuore non si è struire il tuo cuore non si è struire il tuo cuore e non si è struire il tuo cuore non si è struire il tuo cuore